Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. Forti boati per tutta la notte scorsa. Il quattordicesimo parossismo sull'Etna ha riversato tonnellate di sabbia nera, stavolta tra ACI Sant'Antonio, le sue frazioni, la Vinaio e Santa Mela e la Stella e poi ancora su ACI Reale, a Penisia, da Cibonacorsa, Cicatena, Fleri e via Grande. I comuni già al lavoro per rimuovere la sabbia nera, un lungo pennacchio infuocato, poco visibile a causa delle nubi che nella nottata hanno anche portato un po' di pioggia. Ci fa il punto della situazione Francesco Larosa. Etna particolarmente è requieto la scorsa notte. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato infatti un incremento dell'attività stromboliana alla cratere di sud-est con un livello di tremori in rapido aumento, che ha raggiunto valori alti. Forti boati sono stati avvertiti in tanti comuni della fascia ionico-etnea, con un'attività stromboliana che si è presto tramutata in fontanne di lava, non sempre visibili a causa di una copertura nuvolosa sulla zona, copiosa la ricaduta di cenere su tanti comuni ed in particolare nella zona dell'Acese e ad ACI Sant'Antonio, a cui si riferiscono le immagini. Operai spazzatrici al lavoro di buon'ora per ripulire intanto i punti nevralgici del paese. Sì, anche noi oggi siamo stati colpiti, eravamo stati risparmiati nei giorni scorsi, eravamo stati noi colpiti nelle prime due ondate che erano state terribili, anche se avevano un po' compromesso la sicurezza nel paese. Invece oggi è stato davvero un colpo tremendo, stamattina eravamo sepolti, però già ci stiamo mettendo ad opera, abbiamo messo un punto di raccolta per i cittadini, per chi vuole comprire la cenere autonomamente di fronte alla villa comunale. Per il momento, ma ora stiamo cercando di servire in maniera capillare tutto il territorio, quindi comprese le frazioni che sono state forse anzi più colpite rispetto al centro. Piano piano, ora cercheremo di intervenire nell'estate, già le spazzatrici sono in funzione, però è inutile dire che faremo tutto subito. Ora piano piano, con pazienza, faremo un piano che è un gioco di parole, un programma di intervento, partiremo dalle scuole come sempre e cercheremo di arrivare in tutto il territorio. Perché bisogna fare in fretta prima che arrivi la pioggia? Esattamente, il meteo porta pioggia e questo potrebbe essere un problema, perché poi sappiamo che la terra potrebbe finire nelle caditoie, è un problema che già ne avevamo sollevato in sede di riunione con la protezione civile, quindi cercheremo di fare il più in fretta possibile, ma anche di fare le cose bene. Sono delle problematiche specifiche anche per la viabilità? Sì, come sempre raccomandiamo la massima prudenza e raccomandiamo di non utilizzare in questo momento i mezzi a due ruote, che sono quelli che potrebbero più risentire della terra per strada. Anche nei comuni vicini c'è una situazione similare, insomma l'Etna non dà pace? Sì, l'Etna non dà pace, è inutile lamentarsi dell'Etna, l'Etna è croce delizia, ci permette di godere di diverse suggestioni e ogni tanto dobbiamo sopportare anche gli effetti collaterali. Ora bisogna agire tempestivamente e bisogna farlo anche a livello distrettuale, con una logica distrettuale, per far sentire le voci di questo territorio che effettivamente sta vivendo un disagio e che è giusto, spero che non rimanga inascoltato. Perché c'è la necessità di aiuti concreti da parte delle istituzioni al di là dell'ente comunale per una situazione di grande emergenza? Sì, sicuramente, il problema non riguarda solo Ciro Antonio, solo Cireale o solo Giarra, ma riguarda tutto un territorio, quindi è necessario che la regione intervenga per quanto gli concerne e anche che lo Stato Centrale intervenga. E ad Cireale rimaniamo nell'argomento, l'assessorato all'ambiente guidato da Daniele Larosa ha disposto il posizionamento di un veicolo per la raccolta della cenere su piazza Agostino Pennisi. Parliamo della stazione ferroviaria Vecchia. A partire da domani il mezzo sarà a disposizione dell'utenza sino a domenica prossima inclusa, dalle 12 alle 17. Si invita inoltre la popolazione a non collocare in questa prima fase sacchetti contenenti sabbia dinanzi alle abitazioni. Al vaglio degli uffici competenti, infatti, una raccolta articolata secondo un calendario che sin da lunedì prossimo prevederà la suddivisione per zone. Pertanto, soltanto al baro del medesimo, si dovrà procedere con il posizionamento dei sacchetti secondo le istruzioni che saranno impartite. C'è stato un nuovo colpo, a quanto pare, per mano dell'incendiario delle auto che sarebbe autore dell'ennesimo colpo, in particolare ad Acicatena. Parliamo di via Michelangelo Bonarroti, dove nella zona Pigno un'auto è stata data alle fiamme. Si tratta di una Toyota Yaris coinvolta anche una vettura che era vicina. In città, negli ultimi due anni, il piromane delle auto avrebbe appiccato il fuoco a sette mezzi in sosta. Naturalmente indagano i carabinieri. Salvo Cutuli. Ad Acicatena è tornato in attività il piromane delle auto. Nella notte appena trascorsa è incendiata l'ennesima vettura in via Michelangelo Bonarroti. In questa stessa arteria in passato sono state date alle fiamme altri mezzi. Chiara, la matrice è dolosa. La Toyota Yaris, incenerita nel rogo, era priva della batteria, particolare che esclude l'ipotesi dell'autocombustione. Rimasta parzialmente danneggiata anche questa Fiat multipla colpita dalle fiamme sulla fiancata. Negli ultimi due anni sono state incendiate sette vetture, due in via Macello, altrettante in via Aldomoro, altre due in piazza Seleopoldo. L'ultima è inottata, senza contare l'episodio delittuoso delle fiamme appiccate nei locali dell'autorimessa e dei mezzi della rettezza urbana, sempre in via Macello. L'incendiario, a quanto pare, agisce in ordine sparso, colpendo a macchia di Leopardo in centro e nella immediata periferia del paese, sempre con il favore delle tenebre. Che si tratta della stessa mano criminale, ne sono certi gli investigatori dei carabinieri che hanno tracciato l'identikit del piromine. Da quanto accertato, i mezzi dati alle fiamme vengono cosparsi di liquido infiammabile sugli pneumatici anteriori, particolare che favorisce il diffondersi del fuoco nel varo motore e in pochi minuti distrugge il mezzo. Escluso il coinvolgimento dalla malavita organizzata, piuttosto che gli inquirenti propendono per il gesto di una persona con chiari segni di squilibrio mentale che colpisce a casaccio, probabilmente, per appagare le proprie pulsioni. I carabinieri della stazione 10 Catena hanno effettuato i rilievi tecnici e stirato un rapporto sull'ennesimo inquietante incendio di auto in sosta in cui emergerebbero evidenti analogie comportamentali da parte dell'autore De Roghi con gli altri incendi appiccati ai danni delle vetture incenerite nel corso degli ultimi 24 mesi. La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 30 anni pregiudicato responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L'attività investigativa nei suoi confronti aveva fatto sospettare che una vecchia conoscenza avesse ripreso l'attività illegale di spaccio con delle modalità però diverse rispetto a quelle degli anni precedenti. Infatti il uomo era già stato arrestato per lo stesso motivo. Si è riuscito a pedinarlo osservando che lo stesso era solito fare avanti e indietro da uno stabile diverso dal suo indirizzo di residenza per poi recarsi in diversi punti della città a bordo di un'autovettura a Catania. Dagli accertamenti effettuati si è accertato che l'appartamento in questione apparteneva al fratello. È effettuato un controllo, siamo nella zona di via San Giuliano, il trentenne catanese è stato sorpreso con addosso un'ingente somma di denaro in contanti intorno ai 1500 euro di cui non è riuscito a dare contezza e di un mazzo di chiavi. Immediatamente dopo la perquisizione è stata estesa, la stessa anche nell'appartamento, aperto con proprio quel mazzo di chiavi e sono state rinvenute 28 dosi già confezionate di cocaina, materiale per pesare, confezionare e tagliare lo stupefacente nonché 120 euro divise in 5 banconote da 20 presumibilmente contraffatte. L'uomo quindi è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e deferito in stato di libertà per la detenzione delle banconote false. Effetti da Covid-19, in particolare questa mattina la protesta dei ristoratori indipendenti monta la rabbia di quelli siciliani costretti a chiudere di fatto i propri esercizi di somministrazione a Catania e in altre città d'Italia aggiornata di sit-in in programma una vera e propria marcia su Roma degli operatori della ristorazione. Basta con le chiusure, basta con la caccia alle streghe, basta con l'essere aditati come gli untori della pandemia. Ancora una volta i ristoratori scendono in piazza per dire no alle decisioni assunte in sede nazionale e regionale che penalizzano la filiera della ristorazione ormai allo stremo da un anno. Scelte definite assurde, lontane dalla realtà che provocano solo un documento alle centinaia di imprenditori etnei costretti a chiudere nuovamente la propria attività, così come è stato ribadito questa mattina nel corso di un sit-in promosso da ristoratori siciliani indipendenti e dove è stata annunciata una vera e propria marcia su Roma dei ristoratori siciliani e non solo siciliani, ovviamente una marcia di protesta. Tutti quanti aperti e noi dobbiamo stare chiusi, ma perché dobbiamo stare chiusi? I negozi dei cinesi sono tutti aperti in Italia, cosa dobbiamo fare? Ce ne dobbiamo andare in Cina, quanto deve continuare ancora questo stilicidio verso la nostra categoria? Ma forse ci odiano, cosa abbiamo fatto? Noi vogliamo essere equiparati come gli altri lavoratori dei mercati, dei supermercati, delle maicellerie, dei panifici, delle pollerie, negozi di abbigliamento, negozi di scarpe. Se loro li fanno chiudere, chiudiamo anche noi, se loro sono aperti è giusto che stiamo aperti anche noi. Ma vi pensate quanti dipendenti e quanti collaboratori abbiamo a casa che ancora aspettano una fantomatica cassa integrazione? Adesso noi abbiamo deciso che tutte queste proteste in tutta Italia forse non sono servite a nulla. Noi adesso da tutta Italia ci dobbiamo portare a Roma, c'è anche chi non solo può più permettere di andare a Roma e cerchiamo anche degli sponsor, qualcuno che possa pagare anche qualche pullman, perché noi dobbiamo andare al Parlamento, dobbiamo andare là davanti e non farli più entrare a lavorare, perché se non lavoriamo noi non devono lavorare nemmeno loro, perché non ci considerano. Ora basta, si marcia su Roma, gli deve bruciare. Insomma la situazione si fa davvero calda e poi arrivano pure le nuove notizie, quelle sul distanziamento a due metri. I bar, tutti i ristoranti e tutte le pizzerie dei centri storici d'Italia, come fanno a distanziarsi? Non ci sono, le pareti non lo permettono, ci sarebbe un investimento di centinaia di migliaia di milioni di euro per poter fare questo. Un metro si elimina, un tavolo si può fare, ma perché come sono le strutture? Due metri penso che sia una cosa impossibile ed è anche una farsa, perché scusate, questi due metri alla Rinascente, da H&M, da Zara, dove vengono rispettati? La situazione è dunque economicamente grave e dall'altro lato non si scorge alcuna prospettiva per il futuro. Causa di incompetenze evidentemente governative e organizzative, perché ci bloccano sempre, ci impediscono di lavorare e quindi dando spazio alla proliferazione del virus in tutto il mondo, in tutti i mezzi pubblici e le pubbliche attività, però colpevolizzando noi ristoratori come se fossimo un tori o problema della diffusione del virus, cosa che non esiste. Ci hanno sempre usato come capo ispiratorio, chiudendo le nostre attività, non dandoci la possibilità di lavorare e negando quindi il nostro diritto all'imprenditoria, insomma al vivere quieto e dare sostegno alle nostre famiglie. Ci hanno ridotti alla fame e schiavitù all'interno delle nostre botteghe. Noi siamo arrivati, non ce la facciamo più, da un anno che siamo saggio di questo sistema. Ci siamo rotti. E' sempre rimanendo in argomento, parliamo dei nuovi poveri. Crescono le richieste di aiuto all'Help Center pari al 600%, l'impennata delle richieste di sostegno nel primo bimestre di quest'anno, rapportato allo stesso periodo dello scorso anno. L'emergenza pandemica ha mandato molte famiglie sull'astrico. Ancora Mario Grasso. Le conseguenze del Covid sull'economia catanese sono davvero devastanti. Lo confermano anche i numeri degli interventi della Caritas diocesana sostenuti nel corso del primo bimestre di quest'anno rispetto al primo bimestre del 2020. Infatti si segna un incremento del 600%, una cifra drammatica e che assume particolare rilievo per il peso in percentuale degli italiani che ormai costituiscono la metà di coloro che fanno richiesta di aiuto, mentre nel primo bimestre dello scorso anno la cifra non raggiungeva neppure un terzo di tutti i richiedenti. A presentarsi nella struttura dell'organismo diocesano le famiglie italiane, straniere, mamma e papà che hanno perso il lavoro e che hanno bisogno di supporto per tutti gli aspetti della quotidianità. Poi senza dimora, alla ricerca di un alloggio, gli extracomunitari che chiedono titoli di viaggio, farmaci o di sbrigo pratiche. Fondamentali servizi per la cura dell'igiene della persona attivati lo scorso novembre. All'help center della stazione centrale gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti stanno completando i murales, un segno di accoglienza per addolcire una drammatica situazione. La Caritas come famiglia vive con le persone e quindi questo porta ad essere veramente una comunità. ma sovente ci siamo accorti in quest'ultimo periodo che l'elevata povertà che abbiamo incontrato a causa sia del periodo pandemico ma anche della forte crisi economica ci sta portando a fare delle riflessioni, i bisogni delle famiglie. Ecco perché questi numeri del 600% che sono aumentati a testimonianza dei bisogni legati alla quotidianità familiare quindi non solo beni primari ma soprattutto affitti, utenze, farmaci. Questo ci sta portando veramente da un lato a preoccuparci, dall'altro a riflettere su come andremo ad arrivare, a finire. I singoli sì, ma anche le famiglie. L'abbiamo testimoniato più volte perché chiaramente ci siamo sempre resi conto soprattutto per le famiglie catanesi dei vari bisogni ma ora più che mai, soprattutto in questo periodo, in questo primo trimestre abbiamo riscontrato fabbisogni legati alla famiglia, ai farmaci, alla casa. Infatti anche col microcredito stiamo cercando di intervenire ma purtroppo le famiglie arrivano in una situazione dove già dal punto di vista bancario sono abbastanza critici. Sono circa 700 gli interventi alimentari che giorno dopo giorno vengono assicurati dal Center della Caritas di Catania. I volontari sono complessivamente 640, un'ottantina di questi vengono attualmente impiegati in turni da 10 unità ciascuno. Naturalmente essere volontario è una bella esperienza. In questo periodo è un'esperienza bella ma anche impegnativa perché naturalmente siamo in una situazione un po' critica però grazie a Dio qua siamo ben protetti, siamo protetti da questa situazione, usiamo mascherina, guanti e poi ci sono tutti i vari annessi e connessi necessari. Certo, è un periodo un po' critico per tutti, anche e soprattutto per questi nostri assistiti che vengono hanno bisogno sempre, ma a maggior ragione in questo periodo che manca lavoro e tante altre cose. Quindi sono anche addirittura un po' di più del solito. Rimaniamo a Catania ma cambiamo argomento, viabilità tra le vie Beccaria e D'Angio. A Catania un nuovo piano viario nel reticolo stradale che comprende il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il carcere di Piazza Lanza e lo stadio Cibali è quanto propone il presidente del terzo municipio, Paolo Ferrara. Tra le vie Leonora D'Angio e Beccaria nel terzo municipio di Catania occorrono interventi specifici al traffico per rendere lo stesso più sicuro e adeguato alle esigenze di un territorio caratterizzato da non forte pendolarismo oltre che da un alto tasso di residenti. E' quanto afferma il presidente del terzo municipio, Paolo Ferrara, che nuovamente sottopone all'attenzione dell'amministrazione comunale tre nodi che pesano non poco sulla mobilità in questa parte di Catania. Segna l'etica da rifare, le buche e gli avvallamenti da ripristinare, ma ancor più la modifica del piano viario. Le caratteristiche di questa zona che va dalla via Cesare Beccaria, la via Cesare Vivante, la via Ala, fino ad arrivare poi al Stodio Cibali hanno delle caratteristiche peculiari che meritano la realizzazione di un piano viario ad hoc oltre che interventi di manutenzione importanti. Sia qui abbiamo un forte pendolarismo dato dalla presenza di numerosi uffici e numerose scuole sia anche la presenza di edifici strategici come la caserma dei pompieri, lo Stodio Cibali per poi arrivare anche alla casa circondariale di Piazza Lanza. Come municipio ci stiamo facendo promotori di una serie di iniziative di manutenzione da rifacimento della segnaletica orizzontale per mettere in sicurezza le strade, la copertura di buche, il rifacimento del manto stradale, ma vogliamo anche intraprendere un piano viario nuovo che possa anche smaltire il traffico più facilmente, specialmente nel tratto che poi va verso Piazza Antimere di Gesù dove un po' tutte le ore del giorno si creano degli ingorghi, anche penso a causa di alcuni sensi unici che creano problemi al transito e quindi stiamo studiando, oltre chiaramente a segnare le varie problematiche di manutenzione importanti, anche delle alternative al piano viario che possono fare smaltire il traffico e chiaramente aiutare i cittadini a poter vivere a tutte le ore questa zona. Anche perché durante le ore di punta qui non si circola completamente e degli ingorghi sono spesso penalizzati anche i mezzi in emergenza della vicinissima caserma dei pompieri. Assolutamente sì, questa zona collega il centro città alla circonvallazione, quindi chiaramente c'è un flusso viario notevole a tutte le ore, data la presenza di scuole, uffici e appunto anche edifici strategici, ma vi è anche chiaramente una necessità di poter fare defrire il traffico più velocemente per chi dalla periferia va verso il centro e viceversa chi dal centro vuole andare chiaramente verso i paesi ettennei o anche verso le zone più periferiche della città. Quindi è importante intervenire in questa zona in un'ottica generale sia per l'interesse dei residenti del quartiere ma anche in generale per tutta la città. La zona a traffico limitato in centro storico da Cireale penalizza i residenti delle arterie vicine e privati della possibilità di parcheggiare negli stalli a sosta libere e costretti a convivere con l'eccessiva presenza di auto in transito e l'inevitabile maggiore incidenza determinata dall'inquinamento atmosferico. Salvo Cutuli. Sulla recente decisione dell'amministrazione pentastellata di istituire la zona a traffico limitato in centro storico da Cireale registriamo le lamentele dei residenti delle vie adiacenti penalizzate da scelte non programmate con largo anticipo tenendo conto delle richieste di quanti abitano nelle zone a ridosso della parte storica della città privati di stalle a sosta gratuita. Decisione degli effetti pesanti per chi dovrà sobbarcarsi l'ennesimo tributo comunale di sosta pur essendo residente. Per non parlare dell'aumento del traffico veicolare, conseguenza della chiusura di piazza Duomo con deviazione su strade alternative, via Galatea perché accede in città dalla parte nord e via Marchese di San Giuliano e per i mezzi costretti a saltare Corso Savoia con fine di auto incolonnate che pregiudicano i già alti livelli di inquinamento atmosferico nella zona. L'assenza di stalle libere dal pagamento del ticket penalizza residenti private dell'ultima area di sosta bianca presente a ridosso delle vie del centro inutili le sollecitazioni all'indirizzo del comandante della polizia locale Molino e del nuovo assessore Coco sulla necessità di stalle riservate ai residenti. Nonostante le promesse, la situazione è rimasta immutata, scelta il cui peso dei disagi nella gestione della viabilità e l'assenza di stalli per la sosta libera incideranno significativamente su quanti risiedono nelle uniche arterie alternative al deflusso delle auto che non potranno transitare da piazza Duomo. La questione si trascina da 23 anni, punta l'indice signor Michele Grasso residente in via Marchese di San Giuliano, stanco di subire silente decisioni che non tengono conto delle regittime richieste di quanti dovranno sobbarcarsi il peso delle difficoltà e l'aggravi di spese per la sosta a pagamento. A Cireare è in controtendenza rispetto alle scelte di altre comunità in cui a seguito delle restrizioni personali sono state sospese le ZTL. Noi siamo le cavie da 20 anni di questi esperimenti di chiusure. Oggi sono esperimenti spasmodici, chiusure istintive che vengono magari da una notte passata scorsa male, quindi la mattina si decide di chiudere così come è successo tante volte. Noi residenti del centro storico riteniamo di essere in una ipotetica piramide di venire prima dei commercianti e prima dei turisti perché noi siamo i residenti, non veniamo a fare lucro qui e personalmente abitandoci da sempre. Adesso posso dire che i posti per noi residenti, i posti auto sono completamente finiti. Addirittura aggiungo che l'aggravante di questa amministrazione è stata quella che quest'estate ha eliminato 30, 40, 50 posti bianchi che ci sono sempre stati proprio dietro Piazza Duomo, tra via Lessi, via Cavour, via di San Giuseppe, piazza San Domenico. Decine e decine di posti bianchi eliminati to court senza mai rimpiazzarli. Addirittura chi l'ha eliminato non sapeva nemmeno né la posizione di quei posti eliminati né il numero. Quindi hanno agito su un discorso molto delicato come quello del parcheggio che c'è sempre stato, devastando completamente quel minimo di equilibrio che c'era. Non possiamo ovviamente più parcheggiare e quando si chiude Piazza Duomo, che è comunque qualcosa che tutti i residenti auspicano perché tutti vogliamo Piazza Duomo chiusa e le vie limitrofe, però devono darci un'alternativa per poter ritornare a casa. Nessuno vuole il posto sotto casa, il sindaco lo sa, l'assessore Coco lo sa, gli assessori di prima probabilmente no perché erano scevri da certi ragionamenti, ma a questi due, al sindaco e all'assessore, l'ho ripetuto chiaramente, quando si chiude il centro per qualcuno va bene, per tutto il resto della città è un casino, quindi non si può andare avanti così, lo si fa da 23 anni. Un avviso di manifestazione di interesse rivolto a denti, associazioni e promotori di spettacoli pubblici interessati ad organizzare manifestazioni in città, è stato avviato dall'amministrazione comunale, sempre a Cireale, con lo scopo di calendarizzare senza sovrapposizioni eventi di carattere culturale, turistico, ricreativi ed anche sportivi. Ancora salvo Cutuli. Calendarizzare i prossimi eventi in città, pandemia permettendo, è la proposta dall'assessore a turismo, sport e spettacolo del Comune di Cireale, Fabio Mangiagli, che per il secondo anno consecutivo promuove la manifestazione di interesse indirizzata, denti, anche di culto, associazioni culturali, fondazioni, accademi e comitati cittadini, società sportive e promotori di spettacoli, ad inviare le proprie istanze con eventuali date e programmi per definire un percorso condiviso con l'ente in vista della prossima stagione estiva, con possibilità di estendere il calendario di iniziative natalizie. Programmare per tempo e senza sovrapposizione di date delle manifestazioni future nell'interesse degli organizzatori del Comune, che potrà allestire in anticipo un calendario più articolato e diversificato a seconda della stagione. Gli interessati possono inviare le proprie istanze alla casella di posta certificata del protocollo comunale, specificando la natura dell'evento e le eventuali date. L'assessorato si riserva di bandire il sostegno economico alle iniziative che verranno inserite nel cartellone in una seconda fase. È un avviso che l'anno scorso ci avevamo fatto uscire il 3 gennaio, quest'anno abbiamo fatto uscire un po' più in ritardo perché logicamente la situazione epidemiologica ci ha creato un po' di problemi, tutt'oggi logicamente ci sono problemi, ricordo che oggi siamo in zona arancione, però secondo noi la programmazione deve andare avanti e bisogna mettere in atto tutti quei meccanismi che ci potranno poi permettere di avere un calendario ricco e con tanti eventi. L'obiettivo di questo avviso è un duplice affetto, ha sicuramente l'effetto quello di poter organizzare con largo anticipo questi eventi, poterli calendarizzare e di conseguenza promuovere, ma allo stesso tempo poi quello di poter evitare che magari più eventi possano coincidere nella stessa data. Questo purtroppo è un episodio che succede spesso e sicuramente è da evitare in modo tale che non ci sia una dispersione di pubblico, ma ci sia anzi un calendario più ricco e distribuito nel tutto l'arco del tempo. L'assessorato di concerto con la fondazione organizzatrice del carnevale guarda il carnevale estivo con un volano di rilancio del settore turistico, anche se al momento le restrizioni al contenimento e al diffondersi della pandemia non lasciano spazio alla programmazione. In bilico restano anche gli eventi primaverili con le sfilate dei cari infiorati, allo studio l'integrazione di manifestazioni con gli eventi celebrativi a 700 anni dalla morte del sommo poeta, programmate nei prossimi mesi in città. La fondazione già è al lavoro da un bel po' perché logicamente il carnevale come ogni anno sarebbe stato a febbraio, però purtroppo il covid non l'ha permesso, hanno dovuto slittare le date e ora si sta lavorando in una nuova progettazione che dovrebbe riguardare il periodo di fine estate, ancora con le date da decidere definitivamente, però sia i maestri artigiani già stanno lavorando, gli appuntamenti anche quelli culturali e collaterali già sono in lavoro e perciò tutto è messo sul tavolo per poter fare un'ottima manifestazione come ogni anno, sicuramente in un periodo diverso, però del resto quest'anno ci siamo abituati a fare cose fuori dal normale, però siamo sicuri che come ogni anno i nostri cari, i nostri giganti di carta peste riusciranno ad attirare tantissimi turisti e non soltanto, per dare ad Acireale veramente un'altra grande occasione di respiro internazionale. Ci spostiamo adesso nell'area Ionica, le donne saranno al centro di un incontro promosso a Mascali e che sabato prossimo vedrà anche la partecipazione del vescovo della diocesi di Acireale Monsignor Antonino Raspanti, una figura quella femminile ulteriormente sollecitata in un periodo come quello della pandemia. Francesco Larosa. Una maggiore valorizzazione della figura femminile al tempo della pandemia e tra gli argomenti che saranno trattati sabato prossimo nel corso di un incontro organizzato a Mascali dal titolo Donna sei tanto grande e tanto vali al quale prenderà parte anche il vescovo della diocesi di Acireale Monsignor Antonino Raspanti. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale con un chiaro input dettato dalla giunta sessoriale che annovera al suo interno tre rappresentanti del gentil sesso. Il tema che emerge violentemente durante questo periodo di pandemia è effettivamente il divario che emerge soprattutto dal punto di vista prettamente lavorativo ed economico e che colpisce soprattutto le donne. Da qui nasce la volontà di una tavola rotonda che ha coinvolto il nostro vice sindaco del comune di Mascali, l'assessore alle pare opportunità e soprattutto il nostro vescovo Antonino Raspanti della diocesi di Acireale. Un tavolo tecnico che affronterà la figura della donna da diversi punti di vista, dal punto di vista prettamente professionale, culturale, economico e parleremo anche di violenza sulle donne fino a concludere con quello che è il tema poi principe di questo convegno che è Donna si tanto grande e tanto vali. Un passo preso dalla Divina Commedia e che parlerà e ne parlerà soprattutto il nostro vescovo Antonino Raspanti. Diverse le iniziative che si svolgeranno in questo periodo. Intanto un concorso che ha coinvolto le scuole delle classi quinte elementari e terze medie a cura soprattutto della commissione alla cultura del nostro comune e che premieranno se elaborati al palazzo del comune. Un momento dedicato alle donne e un tema pregnante sul quale puntate? Sì, il flash mob a cura dell'assessore alle pare opportunità che purtroppo per vari motivi ancora non è stato possibile fare e che sarà un momento dove vorremmo ricordare tutte le donne vittime di violenza. Quindi diversi gli appuntamenti e gli incontri che ci saranno e che avranno al centro il ruolo della donna. E' una notizia prima di cedere la linea alla regia per i comunicati commerciali. ReTV cambia frequenza per continuare a vederci effettuate la risintonizzazione del vostro televisore e del vostro decoder. Pochi veloci passaggi, la procedura varia a seconda del modello per poter continuare a seguire la nostra emittente. Adesso linea alla regia come dicevamo per la pubblicità. Noi ci rivediamo subito dopo per eventuali notizie d'aggiornamento e per la conclusione del TG. Tra poco. Rieccoci nuovamente in studio. Non ci sono aggiornamenti dell'ultimo radunque. Si conclude qui la prima edizione di RATG disponibile all'indirizzo che vedete sovraimpressione sul nostro canale YouTube e sulla pagina Facebook. Vi lasciamo alle previsioni meteo per la giornata di domani e alla regolare programmazione della rete. A voi tutti buon pomeriggio. Tempo nuvoloso con possibilità di precipitazioni. Lo vedete nelle previsioni meteorologiche per la giornata di domani giovedì 18 marzo. Il cielo sarà coperto su tutta l'isola Piovaschi tra Caltanissetta, Grigento, Palermo, Trapani e Messina. Nel resto della Sicilia invece nubi sparse. I venti saranno deboli, i mari leggermente mossi. Uno sguardo adesso alle temperature che si abbassano soprattutto i valori massimi nel capologo etneo previste. Minima e massima rispettivamente di 8 e 14 gradi centigradi in tandem con Palermo. Farà più caldo a Siracusa con 15 gradi e più freddo ad Enne nottata con 2 gradi centigradi. Grazie a tutti.